Sto facendo un disegno e poi dopo che ho finito potete guardare. Sì ma si dovete girare. Avete capito? Grazie a tutti. Questi sono i punti colori e sono per la mamma, per metterli per prima dovevo mettere qua dentro questa e dopo mettiamo questi colori qua. Vedi. Vedi. Ciao! è azzurro, blu, è rosso, è azzurro, è rosso, è nero, è nero. Grazie a tutti.